Donatella S su Facebook. 7 marzo 2017. L'Italia ha appena ricevuto da Israele i primi due aerei Gulfstream 550 modificati al prezzo di circa un miliardo di dollari, veri e propri comandi volanti, dotati dell'elettronica più avanzata, per missioni di attacco a lungo raggio. Occorrono allo stesso tempo professionisti della guerra, capaci di usare le nuove tecnologie e di combattere in lontani paesi nelle più diverse condizioni ambientali. Abbiamo bisogno di soldati giovani, spiega la ministra Pinotti. La chiave sta nell'arruolare persone a 19-20 anni, offrirli un pacchetto formativo importante per 7 anni della loro vita, insegnando lingue e professionalità. Se si ritroveranno sul mercato a 26-27 anni non sarà difficile trovare un'altra occupazione anche perché ci impegniamo a costruire nuove opportunità di lavoro con percorsi legislativi. In una situazione di disoccupazione e precariato, si offre così ai giovani il modo per guadagnare e avere un posto sicuro, la guerra. E ai professionisti della guerra, agli ordini del Pentagono italiano, viene affidata nel disegno di legge anche la salvaguardia della libera istituzione, con compiti specifici in caso di straordinaria necessità ed urgenza, formula vaga che si presta a misure autoritarie e a strategie e aversive. Manlio Dinucci.